Buonasera da magazine.it siamo ancora qui al Wired Next Fest con Daniele Cassandro di Wired il sole sta lentamente volgendo al tramonto su quello che sarà l'evento dell'evento ma di questo parleremo dopo sempre con Daniele Cassandro intanto ci facciamo dire a lui qual è stato il tema della giornata di oggi ciao a tutti il tema della giornata di oggi era visibilità e visione abbiamo parlato all'inizio della giornata con Bruce Sterling che ci ha aperto così uno spiraglio appunto di visione sul futuro e ci ha spiegato che in Italia non dobbiamo aspettarci di fare il prossimo Amazon o il prossimo Google perché non potremo mai al massimo secondo lui la speranza dell'Italia è riuscire a creare un luxury open source ovvero un open source del lusso a questo punto sarebbe molto interessante capire come e secondo me è un tema sicuramente da sviluppare in futuro anche per noi di Wired poi abbiamo avuto la giornata a un certo punto interrotta in maniera abbastanza brusca da una rivolta proprio una vera e propria rivolta dei tassisti qui al Red Dome di Wired sempre a proposito di visibilità esatto a proposito di visibilità c'è gente che la visibilità proprio l'ha voluta a tutti i costi e ce l'aveva, ce l'avrebbe avuta perché il rappresentante dei tassisti era invitato a questo incontro con Uber, con la città di Milano e con appunto il rappresentante dei tassisti sono successi i tafferugli all'interno del Dome con gente che ha rumoreggiato e ha impedito alla rappresentante di Uber di salire sul palco e di esprimersi l'incontro è saltato praticamente e fuori dal Dome è avvenuto anche un po' di caos c'è stato bisogno di un intervento della polizia è rientrata quasi subito l'emergenza, la gente è tornata a divertirsi alla Guarnix Fest abbiamo ricominciato le nostre attività e ora siamo in attesa di quello che sarà l'evento nell'evento come hai detto tu che è il DJ set di Giorgio Moroder che inizierà alle 10 e mezza il prato è già pieno di gente e sarà veramente una bella festa e siccome è stata una giornata molto lunga oggi ne abbiamo bisogno tutti e tu intervisterai lui più tardi? non più tardi ma domani, domani alle 2 ci sarò io e il direttore di Vanity Fair Lucadini che faremo delle domande a Giorgio Moroder sulla sua carriera, sulla sua vita e tutto quanto va bene, diciamo grazie a Daniele Cassandro e con Megzin ci ritroviamo sempre qui dal Guarnix Fest domani alla stessa ora